Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Se gli smartphone dei due vice premier segnano orari molto diversi, vuol dire che l'ingranaggio della manovra non gira come un orologio svizzero. Il Matteo Salvini che al mattino bollinava la finanziaria come importante e positiva e assicurava che il cantiere era stato nottetempo chiuso, ha fatto infuriare l'altro numero due della presidenza del Consiglio. Per Antonio Tajani non è chiuso un bel niente. Il leader di Forza Italia chiede altro tempo e ritiene necessario lavorare di bianchetto e di inchiostro, finché non si arriverà a un'intesa che soddisfi tutte le forze di maggioranza. Altrimenti, hanno avvertito gli azzurri, salterà il patto, zero emendamenti preteso dalla premier e in Parlamento sarà battaglia. La premier da Bruxelles ha placato gli animi e assicurato di non avere problemi né con Salvini né con Tajani. Il punto politico è che i due vice hanno problemi tra loro e l'iter accidentato della manovra, coordinato al MEF da Giorgetti, ne è una prova. Altro segnale di fibrillazione arriva, secondo le opposizioni, dai numeri del decreto caivano, passato al Senato con la fiducia e 90 voti su 115, record negativo. Per Palazzo Chigi non c'è alcuna tensione, il governo è compatto e ha partorito una manovra solida che abbassa le tasse, lo spread scende, i mercati sono tranquilli. E se in cassa non ci sono soldi per soddisfare tutte le richieste dei partiti non è per le scelte del governo Meloni, dovrebbero farci i complimenti per serietà e rigore, ma per gli interessi sul debito dovuti alla BCE che ha alzato a ripetizione i tassi e per il superbonus, voluto dal governo M5S-PD. Eppure Forza Italia non molla. Negli uffici del partito fondato da Silvio Berlusconi la luce è rimasta accesa per tutta la notte. Non reggiamo l'aumento delle tasse, è l'avvisore capitato a Palazzo Chigi, con tanto di pressing sulla Premier perché freni Salvini. Lunedì Meloni presiederà il vertice di maggioranza sulle riforme e sembra ormai scontato che la Premier, i ministri, i leader e i capigruppo dovranno vedersi in quella sede anche per sciogliere gli ultimi nodi della manovra e dare il via libera all'ultima delle tante bozze circolate. La giornata di ieri è stato un vortice di telefonate tra Roma, Bruxelles e Le Marche, dove la leader della destra è atterrata al termine del Consiglio UE e dove oggi firmerà l'accordo di coesione con la Regione. All'incontro cruciale di lunedì, Tajani vuole arrivare con un accordo sui due capitoli per lui fondamentali, casa e pensioni. Gli azzurri sono inquieti, temono di perdere voti nel eccetto medio e preparano emendamenti, da tirar fuori nel caso di una mancata intesa. Per Giorgio Mullè le bozze che girano contengono storture, come il divieto di vendita degli immobili ristrutturati con il super bonus. Per Forza Italia insomma la manovra non è chiusa, bisogna valutare bene le ricadute del ritorno a quota 103 che ha fatto felice Salvini e contenere l'aumento dell'acedolare SK sugli affitti turisti. Non sarà facile, perché il balzo dal 21% al 26% è una misura che il braccio destro di Meloni, Giovanni Battista Fazzolari, ritiene necessaria. È una questione di buonsenso, che va incontro alle esigenze di studenti e famiglie. C'è un altro tema che preoccupa Forza Italia ed è l'articolo che riguarda la riduzione a 70 euro del canone RAI e che prevede per Viale Mazzini un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024. Ma se il piano industriale è triennale e la manovra stanzia i soldi solo per il 2026, il rischio, per dirla con un parlamentare di rango, è di creare, indirettamente, danni a Mediaset e alle altre tv commerciali. I parlamentari forzisti continuano a temere ritorsioni per i fuori onda dell'ex compagno della premier Andrea Gianbruno, trasmessi da striscia. Fonti di Palazzo Chigi però smentiscono, premesso che i partiti e le imprese non si possono sovrapporre, con Forza Italia i rapporti sono tranquilli e sereni e non ci sono mai state tensioni con la famiglia Berlusconi.